con grande piacere che accolgo Marco Romizzi, ciao Marco ciao Claudio, grazie dell'invito, buonasera a tutti, ciao Giovanni buonasera, ciao allora Marco, innanzitutto come stai? Sappiamo che da qualche giorno che hai trovato una nuova squadra come sta andando a Senigallia? sì, tutto bene, dai, nonostante l'età continuo a star bene fisicamente, ho tanta voglia di giocare mi sono appena spostato dalla Luparenza e sono venuto a giocare alla Vigor Senigallia che è una società con grandi ambizioni, nonostante che è da pochi anni che è tornata in Serie D però stanno facendo e ora anche io un campionato di vertice siamo in zona playoff e chissà fino a fine stagione dove potremmo arrivare insomma ancora il primo posto è raggiungibile, quindi ci crediamo mi volevo anche un po' avvicinare verso le mie zone di casa e ho fatto questa scelta e sono molto contento immagino che comunque tu segui sempre il Bari ti chiedo, parlando della partita con la Ternana è stata una bella vittoria convincente quanto è importante, è stato importante secondo te iniziare bene il giorno di ritorno? Di sicuro questi tre punti erano fondamentali per staccarsi un po' dalle zone basse della classifica e quelle fanno sempre un po' paura anzi ora con la trasferta di Ascoli comunque si è di nuovo a tiro dei playoff quindi è una classifica che in questo momento come sempre accade in Serie B è molto corta purtroppo ci sono state qualche battuta d'arresto di troppo nella gioia di andata però sono convinto che nel gioia di ritorno il Bari risalirà Allora Giovanni, non so se tu lo sapevi ma Marco è stato compagno di squadra di Sibilli ad Albino Leffe ti chiedo subito, ti aspettavi che potesse avere un impatto così decisivo qui a Bari? Ma guarda, io come ho detto già altri tuoi colleghi che mi hanno chiesto di Beppe io fin dal primo allenamento che l'ho visto ho pensato che potesse diventare un giocatore di alto livello l'ho seguito negli anni, sono stato contento di quello che è riuscito a fare a Pisa e felicissimo di quando è arrivato a Bari tant'è che gli ho scritto subito so che è un giocatore di grande impegno, di grande impito e quindi ero convinto che a Bari potesse far bene perché non è un giocatore che si spaventa non si spaventa della piazza, non si spaventa delle pressioni è uno che come gioca al campetto sotto casa gioca anche il sabato davanti a 40.000 persone al San Nicola e in Serie B quindi ero convinto che potesse far bene che potesse essere la piazza giusta per lui e sono contento di come sta facendo Secondo te perché ci ha messo così tanto? perché comunque poi dopo i due anni al Binoleffe è stato a Pisa però anche lì non giocavo con continuità ecco, esploso forse troppo tardi Ma sai, ogni calciatore ha un po' la sua storia io per esempio ho una storia un po' inversa rispetto a Berto perché sono comunque arrivato a Bari che avevo 21-22 anni lui ci è arrivato un attimo dopo tanti giocatori ci arrivano magari alla soglia dei 30 quindi sai, è un lavoro che è molto particolare dipende un po' dalle situazioni dove ti trovi dalla fiducia che ti dà un allenatore dalla fiducia che ti dà un ambiente dai compagni che hai quindi mi dispiace ecco che magari, come dici te, si è esploso un pochino dopo rispetto a quello che potevano essere le sue qualità però l'importante è comunque arrivarci e sono convinto che da ora in poi può solo che migliorare sicuramente non farà più passi indietro quindi perché no arrivare in A con il Bari o arrivare comunque in A con qualche altra squadra Giovanni No, io restando sull'attualità come abbiamo detto anche prima il nome del momento è Buscas quindi Marco ha avuto occasione di conoscerlo anni fa e volevo un po' una sua opinione sul ragazzo che vabbè al tempo era, se non ricordo male ha la prima esperienza tra i professionisti quando poi è arrivato a Bari e che ricordi ha di lui sia da un punto di vista umano sì, caratteriale ma anche poi tecnico poi ovviamente il giocatore si è evoluto nel tempo però che ricordi ha un po' di Giorgi, di Buscas? Sicuramente come hai detto te si vedeva che era la prima esperienza era un po' acerbo però le qualità di giocatore erano ben chiare un attaccante comunque di grande forza un attaccante che vedeva la porta già a quell'età e che lo ha dimostrato poi negli anni insomma l'ho seguito anche lui ha raggiunto se non ricordo male anche con vocazione nazionale quindi insomma ecco mi sto vedendo proprio lì che stavo tentando di contrastare per il giorno Gonzales e la Benzema proprio io, sì e quindi sono contento anche lui che sia ritornato mi state dando l'ufficialità quindi dell'operazione l'ho letto nei giorni lo aspettiamo e sono convinto che ecco potrà dare anche lui una mano perché comunque come vedi anche lui è tornato volentieri a Bari perché purtroppo quella stagione era finita un po' in malo modo e c'era dispiaciuto tanto a tutti insomma come ti spieghi una parte peraltro tu hai no, non la spiego penso che sia stata una delle più incredibili della mia carriera perché cioè l'avevamo preparata con grande attenzione ci eravamo detti di non scoprirci e di tentare di non prendere i gol nei primi minuti ecco abbiamo preso gol nei primi minuti poi non solo abbiamo preso il raddoppio siamo rientrati dagli spogliatoi e mi raccomando ora non prendiamo il terzo abbiamo preso anche il terzo e da lì poi è successo l'imponderabile che purtroppo poi per una disattenzione nei supplementari non ce l'abbiamo fatta ma io sempre nei giorni successivi non mi sono mai tolto la testa che se avessimo pareggiato questa partita saremmo arrivati con così tanto slancio alle partite successive perché ci saremmo tolti una soddisfazione importante credo perché comunque la squadra c'era eravamo molto uniti molto compatti stavamo bene nello spogliatoio eravamo carichi e quindi un peccato davvero un peccato enorme quella seva poi perdeste Manievo per infortunio e perdeste Tonucci Tonucci quindi è troppo e putta a secco nella ripresa e questo è proprio il suo gol incredibile sì sì esatto esatto 0-3 3-3 mi ricordo lo stadio che si svuotava poi era certa qualcuno è rientrato è stata un po' una serata veramente molto particolare sì molto particolare caratterialmente no Puskas com'era cioè era si vedeva no che un ragazzo che seppur come abbiamo detto prima la prima esperienza no comunque aveva quella quel carattere forse giusto per una piazza come Bari sì sì no assolutamente anzi per essere a una prima esperienza quello sicuramente non gli mancava era era molto convinto ecco delle sue delle sue qualità della sua forza di quello che poteva poteva fare già in una piazza così importante come Bari perché comunque fare una prima esperienza in una squadra del genere non è non è semplice e comunque era riuscito a ritagliarsi i suoi spazi comunque con un attacco di altissimo livello insomma c'era Maniero De Luca Rosina giocatori che avevano avevano già fatto diversi gol in categoria e lui secondo me ci sapeva stare e ora secondo me invece può essere un punto di riferimento insieme a Beppe Sibili Giovanni io volevo chiedere a Marco che alla fine c'è una similitudine tra il Bari di quest'anno e quel Bari di quella stagione e anche della successiva perché diciamo entrambe le squadre hanno condiviso una delusione cocente i playoff e poi peraltro Marco nella stagione successiva ha concluso il suo percorso a Bari perché adesso corregimi se sbaglio però la 2016-17 la successiva è stata la tua ultima stagione a Bari quella con con Stellone e con Antuono allora volevo chiederti dato che poi anche quella stagione fu complessa tu ritieni che dopo una delusione del genere sia fisiologico avere delle difficoltà oppure pensi adesso in virtù anche delle tue tante esperienze fatte che ci sia diciamo un modo per reagire a queste delusioni perché poi i playoff sono sono un mondo a sé stante quindi ti creano delle problematiche che poi si possono ripercuotere anche sul percorso sul futuro ma guarda sicuramente quello che si crea è l'aspettativa cioè sia all'interno del gruppo squadra per i giocatori che rimangono che nella città e nel tifo quando si raggiungono certi obiettivi come noi comunque che eravamo arrivati ai playoff non parliamo dell'anno scorso che fino al 93 la squadra e la città era in serie A quindi si crea un'aspettativa che comunque dopo una delusione si debba fare almeno quello e quindi l'aspettativa per quanto riguarda quest'anno era altissima cioè voleva dire solo essere primi solo essere primi o secondi niente niente di diverso e appena qualche risultato non va come si immagina le difficoltà aumentano il tifo inizia un po' a lamentarsi si cambia allenatore così come è successo cose che nel calcio sono la normalità e la quotidianità di sicuro ritrovare la giusta amalgama il giusto mix non è non è matematica il calcio non lo è mai stato quindi non lo so quale sarà la giusta strada per il Bari di sicuro il problema di inizio anno è l'aspettativa è l'aspettativa che crea pressioni ancora più importanti leggiamo qualche domanda questa è molto interessante qual è il centrocampista del Bari attuale che pensi ti assomigli di più tecnicamente ma ormai sono tanti anni che vado a giocare Maita e penso che sia molto simile al modo che avevo io di interpretare il ruolo ecco quindi penso a lui anche se quest'anno credo che abbia avuto un po' meno spazio un pochino più di difficoltà però penso che sia un giocatore importantissimo ormai da anni per questo Bari pure come come Maita no? anche tu pochi gol però tutti bellissimi sì esatto pochi io pochissimi non so lui a quanto è arrivato infatti io prima ne stavo parlando con Giovanni mi ha detto che ne hai fatti quattro io me ne ricordavo solo due quello con l'Avellino e quello col Trapani gli altri due me ne avevo perso poi l'ho fatto a Carti e a Empoli ad Empoli prima Empoli te lo devi ricordare Empoli è il più bello forse sì sì senza dubbio quello bellissimo un saluto da Facebook un amico ti chiede qual è il giocatore più forte con cui hai giocato a Bari ma io senza nulla togliere a tutti gli altri però Rosina e Brienza li devo mettere sul piedistallo ben distanti da tutti gli altri perché oltre ad essere dei non dei giocatori ma dei geni in campo perché vedevano delle giocate che solo loro riuscivano a vedere nella loro importanza nel loro essere stati comunque dei fenomeni del calcio italiano perché entrambi sono arrivati nazionali insomma ad altissimi livelli serie A per anni e anni erano due persone umilissime disponibili due persone per bene che ricordo sempre con gran piacere ti aspettavi di Cesare che potesse alla fine diventare una bandiera del Bari un calciatore che è arrivato a oltre 200 presenze e che tuttora soprattutto continua a essere uno dei migliori difensori della Serie B ma guarda io Valerio così come Rosina e Brienza te lo metto come a livello umano come una delle persone più divertenti più responsabili e più legate al proprio lavoro che ho conosciuto a Bari quindi è un mix di 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 aggettivi che hanno fatto sì che lui tornasse a Bari in D e arrivasse fin dove è arrivato di sicuro nessuno si aspettava che magari ancora 40 41 quanti anni ha Valerio? 39 ah ecco mi sembrava infatti a 41 anni riuscissi ancora ad essere titolare in Serie B questo questo non è facile gli faccio i complimenti perché vuol dire che si sta tenendo bene si sta allenando e sta curando il proprio fisico perché io comunque sono assolutamente 30-41 anni sono ormai a febbraio ne faccio 34 e inizio a sentire la differenza di quando dieci anni fa o anche cinque anni fa quindi gli faccio grandi complimenti e mi auguro che non so se questa ho visto che potrebbe essere la sua ultima ma mi auguro che abbia voglia di continuare ancora un po' c'è un amico che su Facebook ha scritto quando ti aspetto un posto nello staff di Vito di Bari non so se lo sai che lui allena le giovanili qui a Bari sta cioè non sai nel lavoro grazie Vito grande amico l'ho seguito negli anni ha fatto una bellissima scuola calcio ad Andrea e ora so che allena appunto il settore giovanile del Bari molto volentieri il patentino l'ho già preso quindi un po' questa volontà di allenare soprattutto i giovani ce l'ho guarda proprio oggi sono andato a vedere gli allenamenti dei giovani della mia squadra per portarmi avanti iniziare un po' a capire come lavorare con i ragazzi va bene Giovanni non so se tu hai altre curiosità se no liberiamo Marco io volevo chiedere soltanto una battuta flash anche perché è un tema di cui si è parlato tanto tempo però diciamo Marco è stato uno dei pilatri di quel Bari che è arrivato ad un passo da un sogno che fino a tre mesi prima era impronosticabile parlo ovviamente della meravigliosa stagione fallimentare ricordando anche il titolo del documentario bellissimo è un ricordo di quella stagione niente di più perché è fantastico ricordarla io quando penso a quella stagione credo che nulla di normale c'è stato cioè nulla di di sensato è capitato in quella stagione perché da partire dalla prima parte di stagione ricordo le prime partite che forse allo stadio c'erano mille persone o nemmeno poi a tutto tutto quello che è successo con il fallimento al direttore che comunque a gennaio riuscì a prendere qualcuno durante un fallimento che non so neanche come fece portò Ciani portò Zanon portò dei giocatori che comunque ci aiutarono a fare ragione di ritorno incredibile cioè non so quale incastro magico ci unì così tanto probabilmente anche quello che stavamo creando su Facebook sui social la spensieratezza di dire vabbè ma tanto non abbiamo più niente da perdere proviamoci magari che giocavamo in Serie B come se fossimo a giocare a calcetto con gli amici siamo arrivati veramente a a un passo da un miracolo da un sogno anche perché eravamo tutti così giovani che probabilmente ci avrebbe cambiato ancora di più le carriere abbiamo fatto tutti i calciatori tutti ad alto livello però magari aver raggiunto quella Serie A con il Bari ti poteva cambiare ancora di più davvero un peccato però fa piacere che da lì insomma abbiamo fatto fatto rinnamorare la città del Bari dimenticando quel brutto passato del periodo del calcio scommesse che io avevo provato sulla mia pelle in quanto era arrivato proprio l'anno successivo a quella stagione quindi da lì ecco quella parte del Bari del calcio scommesse si cancellò e il tifo iniziò a essere legata alla squadra come prima peccato ecco non l'avete caputo quell'anno che tu hai conosciuto grande purtroppo scontò la squalifica ecco proprio quella stagione lì perché sicuramente avere Caputo davanti poteva darci più che una mano per raggiungere la Serie A va bene Marco grazie è stato un grandissimo piacere per noi innanzitutto un boccalupo per la tua carriera per questi mesi ecco sempre forse a Bari grazie assolutamente grazie dell'invito buona serata buona trasmissione un boccalupo per il Bari e a voi grazie ciao 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 ciao